Alter Ego S.R.L. Siamo nati nel 1988 come studio di progettazione di interni. Vantiamo una pluriennale esperienza nella realizzazione di arredamento per locali commerciali, quali negozi, hotel, uffici e appartamenti, occupandoci della progettazione, elaborazione dei progetti esecutivi, gestione dei fornitori e coordinamento dei lavori. Vantiamo in Italia e all'estero, con esperienza nella grande distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, presso i più grandi centri commerciali nazionali. Collaboriamo con prestigiosi gruppi nazionali, quali Calzedonia e Intimissimi, fornendo la massima assistenza per la creazione dei punti vendita sul territorio nazionale. Attualmente siamo impegnati a fornire la progettazione e la realizzazione di vari punti vendita per abbigliamento uomo di target medio-alto.